vi come viaggi benvenuti a bordo l'italia si sa è una delle nazioni più belle del mondo e la campania è una delle regioni con il maggior numero di bellezze storiche artistiche architettoniche e paesaggistiche nell'ottica del turismo di prossimità in questa pandemia che sembra non volerci lasciare mai noi oggi vogliamo farvi conoscere proprio una di queste bellezze il parco archeologico di ercolano in compagnia del direttore del parco archeologico di ercolano francesco sirano dottor sirano intanto la domanda che farà sembrare la mia persona piuttosto antipatica ma dov'è e qual è la differenza con il parco archeologico di pompei invece una domanda molto appropriata a mio avviso perché il parco archeologico di ercolano fa parte di un sito unesco che è un mosaico di tre siti oplontis pompei ercolano e ognuno ha la sua caratteristica la caratteristica di ercolano è quella di essere l'unica città del mondo antico ad aver conservato il fronte a mare completamente conservato ovviamente l'attuale linea di costa è avanzata ma si legge molto bene l'antica spiaggia è l'unica città del mondo antico che ha conservato edifici in tale quantità alti fino al terzo piano l'unica città del mondo antico nella quale si possono vedere tanti reperti organici e in particolare il legno utilizzato per completare le abitazioni finestre porte ma anche travi architravi che servivano per come materiale da costruzione quindi è il luogo dove nel 1738 è nata l'archeologia occidentale moderna perché i primi scavi avvengono attraverso dei tunnel con un metodo che oggi abbiamo oramai abbandonato proprio qui ad ercolano e poi dieci anni dopo nel 1748 comincia l'avventura di pompei ma l'insieme di questi siti fanno un gioielli di questa corona del sito unesco ai piedi del vesuvio vesuvio che da qui sembra quasi forse lontano ma non c'erano naturalmente tutte le case moderne che adesso il nostro ottimo stefano traditi vi fa vi farà vedere questo mi lascia intendere dottor stiano che sotto quelle case ci sia un altro pezzo di ercolano sì gli studi fin dal periodo del 1700 hanno dimostrato che quello che noi vediamo attualmente la città di ercolano è circa un terzo della città antica la città si estendeva su circa 15 ettari e noi invece ne possiamo visitare 4 ettari e mezzo dopo gli scavi fatti da maiuri a partire dal 1927 ma il resto della città antica quindi la zona dove si trova il foro e dove si trovano altri importanti edifici pubblici che sappiamo esistevano attraverso delle iscrizioni che furono recuperate durante gli scavi borbonici quindi non abbiamo una precisa idea di dove precisamente si trovassero ma questi edifici ci parlano di quelli che sono gli edifici che di solito caratterizzano la città romana quindi nella parte a monte dell'attuale corsoresina noi abbiamo sicuramente il resto della città antica sicuramente continuare a scavare di là non è cosa fattibile ma so che voi avete invece dei dei progetti altrettanto ambiziosi soprattutto di creare una sinergia tra l'ercolano che fu e quella che è sì devo dire che da tempo ovviamente non sono il primo ad aver abbandonato l'idea al momento di poter scavare per intero la città a riportarla tutta in luce perché ci sono anche tantissimi aspetti regati alla conservazione che ai quali bisogna fare attenzione quindi più si scava più ovviamente dopo bisogna impegnarsi avere la forza di sostenere le spese che ne derivano e le pensi che già nel 1875 fiorelli che è il grande archeologo che iniziò il sistema delle soprintendenze in italia provò a fare degli espropri e allora c'erano poche case e si bloccò tutto quindi noi non affrontiamo nemmeno questo discorso invece ci stiamo dedicando insieme alla fondazione packard che sostiene il sito dal 2001 insieme al comune di ercolano ad un lavoro di ricucitura del rapporto tra la città antica e la città moderna questo avviene attraverso dei veri e propri lavori che servono a sistemare tutta l'area di cuscinetto tra i due luoghi che era stata un po' lasciata abbandonata indefinita all'epoca degli scavi maiuri il quale ancora nel 1948 contava di poter proseguire gli scavi poi ovviamente lo sviluppo dell'italia degli anni 50 vorticoso sappiamo ha completamente bloccato questa possibilità ma noi ora approfittiamo di questa circostanza per tradurla in una cosa positiva vogliamo ricollegare riconnettere la città antica e la città moderna e far sì che queste radici che qui sono proprio evidenti della città moderna siano un qualcosa di positivo per costruire un futuro per ercolano il parco autonomo nasce anche come volano come un catalizzatore delle energie positive sul territorio siamo quasi in chiusura dottor sirano in ogni collezione di gioielli c'è sempre una gemma più preziosa delle altre se questo fosse il suo gioiello e lo è quale secondo lei è la gemma più preziosa di questa meraviglia che noi stiamo vedendo allora permesso che non è il mio io sono il custode al massimo del gioiello ma devo dire che c'è una cosa che mi affascina una delle cose che più dei luoghi che più mi affascina il sacello degli agustali per me uno dei miei preferiti accanto a questo se posso aggiungere la casa dell'atrio mosaico che ben presto sarà oggetto di lavori di restauro in un progetto molto ambizioso che ora è in fase di gara di sei domus è una delle case che ricordo fin da piccolo per questa idea di avere un atrio dove durante il terremoto precedente l'eruzione si era sfondato tutta la preparazione del pavimento e quindi il mosaico ha la forma di un'onda e questo mi ha sempre affascinato e sarà stato uno dei motivi per cui ho deciso di fare l'archeologo bene e allora io la ringrazio molto per questa carrellata per questa passeggiata tra gli scavi di Ercolano un'altra occasione per poter approfittare delle bellezze della Campania e viva il turismo di prossimità unico vantaggio che riusciamo a trovare in questa lunga pandemia che sembra non volerci abbandonare grazie a voi di essere stati con noi per questa puntata di V come viaggi presto visibile anche online su vgchannel.com alla prossima grazie a tutti